Salmo 81 per la festa delle capanne. Un decreto per Israele, un giudizio del Dio di Giacobbe, una testimonianza data a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Un linguaggio mai inteso, io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio. Contro di te voglio testimoniare, Israele, se tu mi ascoltassi. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca. La voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. Lo ha abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti. Se il mio popolo mi ascoltasse. Se Israele camminasse per le mie vie. Subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Lo nutrirei con fiore di frumento. Lo sazierei con miele dalla roccia.